Un'ulteriore verifica di sicurezza dei plessi scolastici siti nella città di Agropoli, a richiederlo il consigliere di minoranza del Comune Agropolese Consolato Natalino Caccamo, dopo la relazione sulle condizioni di sicurezza dell'Istituto Comprensivo Agropoli San Marco, redatta dal tecnico incaricato dal Comune di Agropoli, Giovanni Oricchio, dalla quale risultavano situazioni di estrema criticità strutturale, statiche degne di assoluta attenzione, il sindaco Adamo Coppola dava in carico all'ingegnere Nigio Bonadies di effettuare ulteriori verifiche sulle condizioni del plesso scolastico. A seguito della relazione consegnata da quest'ultimo, la scuola risulterebbe staticamente sicura e lo stesso ingegnere Boradies avrebbe consigliato di compiere solo interventi di ripristino dei ferri e all'intonaco compromessi dall'azione degli agenti atmosferici, quindi non interventi strutturali ma di sola ordinaria manutenzione. Tutto ciò pone un serio contrasto tra le relazioni dei due tecnici, sottolinea il consigliere Caccamo, che nel corso della seduta dello scorso 10 settembre sottoponeva tutta una serie di rilievi tecnici per la relazione anche della scuola primaria Landolfi, redatta dallo stesso ingegnere Bonadies, a cui non si è dato seguito con risposta scritta come richiesto, ha spiegato Caccamo. Così, ritenuto che è indispensabile per l'incolumità della popolazione scolastica avere certezza su quali siano effettivamente i lavori da effettuare, il consigliere Caccamo chiede di valutare e confrontare entrambe le relazioni in maniera approfondita e scrupolosa e la nomina di un consulente terzo e imparziale, ai fini di ottenere una definitiva indicazione sul reale stato dei luoghi e sugli interventi indispensabili da effettuare alle strutture scolastiche di Agropoli. Dal canto suo il sindaco ha risposto comunicando che le perizie dei plessi, dal punto di vista statico, hanno avuto riscontro positivo e che i NAS e i vigili del fuoco hanno effettuato delle verifiche risultate positive, ma il consigliere Caccamo chiede comunque che i plessi vengano adeguati a rischio sismico e che i tecnici incaricati rendano risposte chiare in merito a ciò che c'è da fare sui plessi su eventuali interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.